Ministro, lei le farebbe le classi separate? Io farei? Le classi separate? No, noi abbiamo assunto 13.000 nuovi insegnanti di sostegno. Il nostro obiettivo è includere e aiutare tutti senza escludere nessuno. Sicuramente per le disabilità più gravi occorre ancora maggiore attenzione. Però il mio obiettivo è che tutti possano crescere insieme e penso che le parole del generale Vannacci siano state ampiamente travisate.